Custodire la pace non è facile, richiede un lavoro artigianale da compiere ogni giorno. Nell'omelia della messa celebrata nella cappella della casa Santa Marta, Papa Francesco si è lasciato ispirare dal passo del libro della Genesi, in cui si narra di Noè che libera la colomba dopo il diluvio. Usando le figure della colomba, dell'arcobaleno e dell'alleanza, il pontefice ha chiarito che le prime due sono per così dire segni fragili. L'alleanza che il Signore fa è forte, ma nel cuore dell'uomo c'è sempre il seme del peccato originale, lo spirito di Caino che per invidia, gelosia, cupidigia e volere di dominazione fa la guerra, una guerra che fa sparire l'arcobaleno, la colomba e distrugge l'alleanza con Dio. Oggi nel mondo c'è versamento di sangue, oggi il mondo è in guerra. Tanti fratelli e sorelle muoiono, anche innocenti, perché i grandi, i potenti, vogliono un pezzo più di terra, o vogliono un po' più di potere, o vogliono fare un po' più di guadagno col traffico delle armi. E la parola del Signore è chiara. Dal sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, o a ognuno dei suoi fratelli. Anche a noi. Sembra di essere in pace qui. Il Signore domanderà conto del sangue dei nostri fratelli e sorelle che soffrono la guerra. Grazie.